Un lungo sogno da cui ci svegliamo dopo 8.000 notti. Così Mario Lino Andrea, capogruppo del misto di minoranza in Consiglio Comunale, commenta il prossimo avvio dei lavori per il centro intermodale. Un'opera ambiziosa, nata e finanziata con 28 milioni di euro, all'alba del XXI secolo, ferma per 5 giunte e oltre 20 anni tra bonifiche e contenziosi con l'Arst. Ma con l'accordo di programma tra Regione, Ferrovie e Comune, annunciato poche settimane fa dal sindaco Campus, vi sono due certezze. Il progetto di fattibilità e di progettazione esecutiva, a cui dare gambe entro quest'anno. E di seguito l'accantieramento del parcheggio di via 25 Aprile e del tratto di metro tramvia che collegherà la città con Sant'Orsola. Prove tecniche della rivoluzione viaria che dal 2023 avvolgerà via San Paolo, la stazione dei treni e la stessa via 25 Aprile. Si tratta dei lotti più succosi, come definiti da Andrea, via, ma anche più al momento imperscrutabili nelle voci comunicate dal primo cittadino e nella tempistica. Riqualificazione del centro storico, nella sua parte bassa, dell'hotel Turritain e della stazione. Più il recupero dell'area merci è ancora da acquistare, mentre all'orizzonte si stagliano i potenziali vincoli della superintendenza, in particolare nella fascia tangente al cimitero. Un giro di volta problematico, ma decisivo, nell'ottica di Sassari come città baricentro del Nord Sardegna, responsabilizzata dal recente sospirato upgrade di città metropolitana. Forse anche l'ultima chiamata al risveglio di un centro urbano dormiente, le cui ambizioni resteranno incompiute se, e ancora Andrea a rimarcarlo, i suoi interpreti continueranno a praticare la divisione.